Avete parlato della gara contro il Reinate, che idea vi siete fatti nello spogliatoio della vostra prestazione? Abbiamo parlato della partita e c'è stato un po' di rammarico per i due punti persi, per il gol subito alla fine su rigore. Potevamo fare qualcosa di più, stare un po' più attenti, perdere un po' più tempo per non subire la ripartenza. È stato un po' di rammarico, però partendo dagli errori si cerca di fare meglio le prossime volte. Parlando invece della stagione di Favalli, finora dopo il tuo ritorno a Cremona, sei soddisfatto del tuo rendimento? Senti di poterti migliorare ancora? Migliorarsi sempre, bisogna sempre migliorarsi. Sono abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni fino adesso, anche se a me magari qualche volta è stata una prestazione sotto tono, però è tutto sommato positiva secondo me. Ovvio bisogna sempre migliorare, con questo mister nuovo si può migliorare e speriamo di migliorare sempre di più. Hai parlato proprio del mister nuovo, di Giampaolo. Come ti trovi con lui? Che cosa ti sta insegnando? Dove senti di poter migliorare attraverso le sue indicazioni? Lui lavora molto con la linea difensiva, ci sta insegnando a lavorare di reparto, non singoli ma tutti insieme come gruppo. Sto imparando molto nella fase difensiva, nell'aspetto tattico, è molto bravo in questo, quindi speriamo di imparare il più possibile da lui. Il prossimo impegno contro il Novara, che all'andata lo abbiamo visto ha un grande potenziale, una formazione che era stata concepita per fare la Serie B. Che partita ti aspetti e come la state preparando? È una partita sicuramente difficile, ma come lo sono state tutte, come lo saranno tutte fino alla fine. Sappiamo che avremo davanti una squadra forte, anche nei singoli, costruita proprio per far bene, per salire di categoria. Ma non ci deve spaventare niente noi, perché stiamo lavorando bene e se facciamo quello che sappiamo fare possiamo mettere in difficoltà tutti. Abbiamo visto che nessuno ci ha mai messo sotto in campo, sotto tutti gli aspetti. Siamo una squadra forte, quindi riusciremo a mettere in difficoltà anche loro, anche il Novara, che è considerata una squadra forte. Un'ultima domanda per quanto riguarda la difesa, perché sono arrivati a rinforzare il reparto due giocatori esperti, un ex come Castellini e Briganti. Ti stanno dando qualche insegnamento, qualche dritta particolare in allenamento? Come ti stai trovando con questi due ultimi innesti di dietro? Mi sto trovando molto bene con i nuovi miei compagni di reparto, mi trovo bene anche con gli altri, mi trovo bene con tutti. Ovvio che loro hanno più esperienza, quindi mi insegnano qualcosa, mi stanno insegnando.